C'è lo sviluppo dell'area portuale del porto rifugio di Gela tra le priorità individuate dal Partito Democratico nell'ambito della programmazione dei progetti da finanziare con i fondi di compensazione destinati da Leni al Comune di Gela. I componenti del partito ritengono infatti che dare la giusta importanza alle problematiche afferenti le attività marittime a Gela possa dare il giusto impulso per un incisivo sviluppo economico territoriale. Il capogruppo consigliare del Partito Democratico Enzo Cirignotta. Ho chiesto una riunione del Partito Democratico, del direttivo, per stabilire i criteri sull'utilizzo delle compensazioni previste dal protocollo dall'articolo 6 con precisione. Diciamo che questa è una battaglia vecchia del Partito Democratico anche con la vecchia amministrazione. C'era quella di orientare in via prioritaria questi fondi verso interventi mare, fronte mare, li abbiamo chiamati. Quindi l'area portuale, ma già scritto sul protocollo che una parte dei fondi devono essere destinati alla riqualificazione portuale della città, il lungomare, il questione borsellino e poi un altro intervento prioritario è quello che fa riferimento al refolo in agricoltura, all'utilizzo delle acque e refole da destinare ad uso agricolo. Voi fate riferimento a una somma di circa 4 milioni di euro su quanto? Sono 32 milioni le somme previste nel protocollo e comunque i criteri che abbiamo voluto adottare, comunque indicare durante la riunione del direttivo sono quelli di, andando a concentrare questi investimenti su pochi interventi, pochi interventi ma importanti e qualificati. Quali sarebbero? Stiamo lavorando per definire anche questi progetti, per ora noi preferiamo parlare di criteri, come utilizzare queste somme. Naturalmente interventi che hanno un ricaduto occupazionale per quanto riguarda lo sviluppo economico della città e poi interventi, come dicevo prima, che vanno a privilegiare in via prioritaria infrastrutture che riguardano il mare, comunque il fronte mare. Oltre alla individuazione dei progetti che ci pare di capire in corso d'opera, quali saranno le azioni postenessere dal Partito Democratico per l'attualizzazione di questi progetti? Intanto nella conferenza di capi gruppo mi farò portavoce della linea politica del Partito Democratico, in base a quando è stato stabilito nel direttivo. Dopodiché è chiaro che l'utilizzo delle convenzazioni è un utilizzo che deve essere concordato in Consiglio Comunale e con tutti gli attori in causa. Ricordiamoci che poi deve essere stipulato un protocollo di intesa tra il Comune di Gela, la Regione Siciliana e l'Ene.